Buongiorno o buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di un personaggio di One Piece, ovvero Portguts the Ace. In questo video parleremo del suddetto personaggio cercando di fare chiarezza e di far capire quali siano i suoi pro e i suoi contro, così che si possa comprendere al meglio il comportamento del figlio del re dei virati. Naturalmente noi elencheremo solo 3 pro e 3 contro, per il resto sta a voi trovare altri piccoli dettagli da aggiungere al ragazzo del roggia del fuoco. Ovviamente non sarò solo in questo video, infatti sarò accompagnato da Marra del canale di MeraMera, ma bando alle ciance non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Purtroppo Ace è un personaggio che è stato creato proprio per farlo morire e per far capire a Rufy che non era ancora pronto per il nuovo mondo, dato che era troppo debole. Per questo motivo Pugno di Fuoco non è mai stato così tanto approfondito e non abbiamo visto per bene la sua potenza. Quindi questo è un vero e proprio contro, anche se per fortuna la novel di Ace sta rimediando un po' a questa mancanza. Uno dei pro di Ace che mi sento di indicare è sicuramente l'esistenza della novel A. La novel A, per chi non lo sa, è la novel diviso in due parti che racconta la storia di Ace. Prima di incontrare Barba Nera e iniziare uno scontro che sappiamo tutti sarà l'inizio della sua fine. Molti di voi sicuramente conoscono questa novel perché è stata riadattata in manga da Boichi che è l'autore di Dr. Stone. Perché ho messo questo fatto tra i pro di Ace? Perché a me piace molto quando in un'opera principale non si cerchi solo di creare una storia ma un universo intero. One Piece ci riesce molto bene perché noi lo sappiamo benissimo. Il mondo di One Piece non segue solo la storia di Rufy ma il mondo è in continua evoluzione. Questo lo vediamo soprattutto grazie alle mini avventure che a parer mio sono l'invenzione più bella di Oda perché allo stesso tempo quando tu vedi la storia principale evolversi vedi anche queste mini avventure che ti spiegano in modo rapido quello che succede a dei personaggi che già abbiamo visto. Un altro esempio infatti è quando arriviamo alle isole Sabaudi e scopriamo che non solo la ciurma di Rufy ha fatto un viaggio che gli ha portati ad avere delle taglie eccetera ma vediamo altri pirati che ci vengono presentati come le supernove che hanno fatto lo stesso viaggio e che nel caso di Kid addirittura ha accumulato una taglia più grande addirittura di quella di Rufy. Con questo voglio sottolineare che la bellezza di One Piece non è solo la storia ma il fatto che l'universo si evolve insieme a lui per questo l'esistenza di uno spin off del genere che spiega molto bene a mio parere e anche molto bello la storia di uno dei personaggi più amati è un grande pro che possiamo attribuire ad Ace. La sua morte parliamoci chiaro è veramente stupida non dico il fatto di aver salvato il fratellino ma parlo della scena dove Ace si arrabbia per le parole taglienti di Akainu che aveva proprio lo scopo di far perdere le staffe a pugno di fuoco così da catturarlo o ucciderlo ed Ace è caduto nella trappola dell'ammiraglio di magma. Secondo me la sua impulsività ha fatto sì che la sua morte arrivasse da un momento all'altro e Akainu ha punzecchiato pugno di fuoco conoscendo questo suo lato ed ha portato a compimento la sua missione. Quindi per me questo è un gigantesco contro. Uno dei pro di Ace sicuramente l'essere il possessore della D per eccellenza. Da quel che sappiamo lui è l'unico personaggio che ha sia il padre che la madre possessori della D perché ricordiamo è figlio di Portugues di Rogue e Gol di Roger nonché re dei pirati. Difatti sicuramente Ace avrebbe raggiunto lo status del padre ovvero re dei pirati entro qualche anno soprattutto perché aiutato da barba bianca anche perché ricordiamo non era solo desiderio di Roger stesso che suo figlio diventasse il prossimo re dei pirati quindi che facesse quello che ancora non sappiamo debba fare il futuro re dei pirati a Laugh Tale ma anche per volere di barba bianca. Questo è anche uno dei motivi per cui la sua morte era inevitabile non solo per fungere da catalizzatore per la volontà di Ruffy di allenarsi due anni prima di entrare nel nuovo mondo. Nonostante Ace comunque prenda un po' le distanze da suo padre durante la storia abbiamo visto dei palesi riferimenti a Roger. Uno fra tutti è come sappiamo l'essere messi in ginocchio su un patibolo. Tra l'altro una cosa molto interessante da notare è che Roger quando era sul patibolo sorrideva probabilmente perché sapeva che con la sua morte sarebbe nata una nuova era della pirateria probabilmente più grande di quella che ha vissuto lui stesso mentre il figlio sul patibolo era triste. Ma Ace non era triste perché stava per morire semplicemente perché sapeva che i suoi compagni sarebbero venuti a Marineford a scatenare una guerra che avrebbe portato alla morte di molti di loro per salvarlo. E questa differenza tra padre e figlio la vediamo su una chicca ovvero su il cappello di Ace che raffigura proprio una faccia felice e una faccia triste. Un grandissimo pro di Ace è quello di non voler seguire la massa di non voler diventare come il re dei pirati. Ricordando che si tratta di suo padre l'odio che prova nei confronti del suo genitore porta pugno di fuoco a distinguersi dagli altri pirati che cercano di eguagliare i gol di Roger. E grazie a questo suo carattere è riuscito a farsi un nome ed è diventato anche il comandante della seconda flotta di barba bianca. Quindi per me questo suo essere diverso dalla massa potrebbe essere a tutti gli effetti un vero e proprio pro a suo favore. L'unico contro che sento di dare al personaggio di Ace non deriva tanto da lui ma più che altro dal suo fandom. Sono anni che abbiamo assistito alla scena della morte di Ace, tutti ci siamo commossi, ma credo che sia arrivato il momento di aprire un attimo gli occhi e vedere il fatto che non è né la scena più commovente dell'anime e soprattutto non è l'unica scena commovente di tutto l'anime. So che molti cadranno dalle nubi ma io vedo che su questa scena e su questo fatto si discuti moltissimo, forse anche troppo perché in ogni volta che si va a discutere di One Piece, di quanto è commovente One Piece qualcuno tira fuori la morte di Ace. Quando credo che poi con dei flashback come quelli di Lowe visto Dressrosa e quelli di Sanji insieme a Zef al Barati, credo che possiamo anche distaccarci un attimo da questa scena, parlare anche di quanto è bello One Piece in generale. So che molti sono affessionati a Marineford perché Marineford si sa è una serie che ha attirato molti fan all'epoca, però Ace è morto anni fa quindi non ha senso continuare a parlare di questa scena all'infinito. Ed anche questo video sui pro e contro di un personaggio di One Piece è giunto a termine. Vi ricordo che sono nostri pensieri e non vuol dire che noi vorremmo realmente che il personaggio di punto in bianco cambiasse e non vorrei che pensaste male e parlo soprattutto ai fanboy di Ace. Mi raccomando siate rispettosi nei commenti e ascoltate bene. Vorrei ringraziare Marra del canale di Mera Mera per aver accettato la collaborazione. Se non li conoscete vi invito a iscrivervi al loro canale perché portano contenuti legati principalmente al mondo creato da Oda, dove fa insieme ad un altro suo collaboratore live a tema One Piece naturalmente e video teorie top molto interessanti che riguardano sempre il mondo piratesco creato da Oda. Quindi vi lascio il link dei loro social qui sopra sulle schede e in descrizione. Video è finito, se vi va di seguirmi su Instagram trovate il link in descrizione. Come sempre vi ricordo la collaborazione con Pampling ed usando il codice ilgul91 avrete diritto al 20% di sconto. Non dimenticate di dirmi la vostra a riguardo e ricordatevi di entrare nel canale Telegram di One Piece Unity e AnimeTubers e noi ci sentiamo in un prossimo video.